Benvenuti al terzo appuntamento col canzoniere del pendolare. La canzone di oggi si intitola Com'è bello andare in treno da Torino in giù ed è da cantarsi sull'area di Tanti auguri di Raffaella Carrà. Racconta la storia di un tangenzialista che stufo di prendere la macchina per andare a lavorare prova a prendere il treno. Se per caso prendessi il treno per andare a lavorar lascio l'auto per un giorno, cosa mai mi può capitare di guidare sono stufo e parcheggio non ce n'è più uso sempre il disco orario, questa è proprio una schiavitù ma guardando il mio tragitto alla fine ho deciso che mi conviene fare il dritto perché adesso un diretto c'è. Com'è bello andare in treno da Torino in giù col locale o col diretto sono pronto e tu Tanti auguri a chi il treno prenderà Tanti auguri chissà quando arriverà Com'è bello andare in treno da Torino in giù col locale o col diretto sono pronto e tu e se non parte lo sai che si fa torni dentro al garage e cominci a guidar torni dentro al garage e ti metti a guidar Tanti auguri cura! Tanti auguri che... tanti auguri che... ... Grazie a tutti.